Eri stata quella dell'anno scorso? No, non sono salita. Mi salivo quando ero piccola prima e adesso vengo a vedere della famiglia che c'ho qua, una volta all'anno, quindi non salgo. La bancarella, lo stand che ti è piaciuto di più? Quella che raccontava la storia di Triora, ma più per i bambini. Questo trovo che ha fatto veramente bene. Ok, grazie mille.